Il fatto di Marcotti sulle fonti tv appuntamento imperdibile settimanale con Giancarlo Marcotti finanza in chiaro che saluto subito Giancarlo ben trovato grazie Emanuela un saluto a te come di consueto anche a tutti gli ascoltatori peraltro oggi sei stato evocato anche in altre parti della diretta perché abbiamo affrontato discorsi che secondo qualche altro mio ospite solo tu puoi trattare poi ti dico di cosa sto parlando e vediamo cosa ne pensi allora detto questo scenari economici e politici partiamo sempre da un recap generale rispetto alla situazione nella quale stiamo ovviamente non è la prima volta che ci sentiamo inizio 2022 però insomma mano mano che questo 2022 adesso va avanti si aggiungono dei tasselli che non possiamo non prendere in considerazione al di là di tutto ciò che ruota intorno al covid e le decisioni che sono state prese insomma regole che diventano sempre più stringenti l'obbligo vaccinale per gli over 50 adesso il super green pass anche per salire sui mezzi pubblici sui mezzi di trasporto ovviamente per andare al lavoro che chiaramente cambierà anche il modo di gestire la quotidianità ci sono altri temi e questo sicuramente un tema che ci portiamo dietro da un po' quello del covid ci sono altri temi che non ci abbandonano l'inflazione la situazione dei conti pubblici italiani quindi il debito pubblico le decisioni che il governo sta prendendo appunto che ci proiettano nel futuro allora facciamo un po' il punto non è cambiato granché rispetto a qualche tempo fa insomma quando ne abbiamo parlato in altre occasioni sì però alcune cose che erano state messe un po' ai margini dal punto di vista mediatico nel senso che da qua non si parlava molto se ne è parlato un po' però insomma a mio avviso non si è dato il giusto risalto queste questi accordi tra italia e francia questo patto macron draghi sì ne avevamo parlato di te certo esatto sarebbero delle cose che potrebbero avere degli sviluppi importanti insomma in chiave mess tanto per dire però magari ne parliamo successivamente cioè il fatto è che ci sono appunto due cose una l'italia l'altra diciamo il mondo l'europa il mondo è ovvio che l'italia comunque non può prescindere da quello che succede in europa e nel resto del mondo però obiettivamente queste nuove misure così stringenti le sta adottando soltanto l'italia o meglio mentre da altre parti sì così le misure vengono un po' allentate da noi invece avviene il contrario quindi questo è un aspetto molto importante cioè perché in italia questo questo problema è visto in maniera più grave rispetto ad altri paesi ed effettivamente qua mi trovo in difficoltà a dare una una risposta perché sì è vero che non abbiamo il sistema sanitario migliore al mondo che in qualche altro paese europeo è migliore rispetto al nostro ma insomma non siamo neanche però al collasso abbiamo terapie intensive poco appollate eccetera per cui si fa un po' fatica a capire perché in italia sono state prese queste decisioni così drastiche e questo appunto mentre nel nel resto del mondo poi c'è sempre nel resto del mondo ma hai preannunciato tu ne parleremo durante la trasmissione l'altro aspetto fondamentale cioè derivante dai prezzi petroliferi e comunque dell'energia e che 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 alimentano questa inflazione che ormai si fa sempre più fatica a considerarla transitoria cioè oramai anche la bce ha dovuto ha dovuto dire che il problema inflazione sarà un problema che che dovrà essere approntato quindi questi sono i due aspetti Italia Europa mondo Italia Europa mondo peraltro beh una nota di più di colore Macron ha detto che in Italia siamo fortunati ad avere il presidente della repubblica un presidente della repubblica come Sergio Mattarella e un presidente del consiglio come Mario Draghi beh Mattarella tra poco ecco altro tema che che terrà banco proprio tra pochissimo è l'elezione del presidente della repubblica insomma ma potrà cambiare qualcosa si potrà cambiare molto anzi è l'appuntamento più importante a breve termine ma anche appunto siccome Macron ha detto siamo fortunati in Italia avere un presidente della repubblica come Mattarella però insomma tra poco non sarà più lui quindi bisognerà vedere chi sarà al posto il suo al Quirinale no? Esatto sì io avevo fatto delle previsioni non previsioni comunque avevo cioè le ipotesi sono due no? O Draghi o non Draghi sul non Draghi io mi ero così eh esposto più per una figura femminile se non se appunto non però in questi ultimissimi giorni proprio eh la candidatura Draghi sta diventando sempre più forte cioè mentre prima quando Draghi veniva incalzato su questo argomento eh slittava un po' cioè adesso no no chiaramente non è che che confermi eh la la le cose però ha un atteggiamento già diverso rispetto a prima quindi eh a a questo punto sarei più per come come previsione eh non come augurio da parte mia ma sarei più eh propenso a a vedere Draghi al Quirinale proprio per 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 come si sta comportando in questo momento ok e beh però si riapre tutto il discorso allora della presidenza del Consiglio dopo esatto esatto ed è lì eh ma infatti il cioè diciamo che è per quello che le cose allora quando si dice Giancarlo anche i nostri amici l'hanno già capito con l'elezione del Presidente della Repubblica e col cambio di guardia al Quirinale le cose potrebbero cambiare molto è per questo perché se Draghi che è l'ipotesi più eh probabile dovesse andare al Quirinale e beh poi rimane un bel punto interrogativo per Palazzo Chigi eh tutto sta lì eh cioè fai una domanda a quale naturalmente la risposta non c'è eh no lo so benissimo perché eh noi sappiamo che eh se Draghi dovesse andare al Quirinale il problema eh Palazzo Chigi cioè il problema di che governo ci porterebbe alle elezioni è un problema insomma difficile da risolvere ecco perché anche non si riesce a trovare una persona che che possa così sostituire Draghi in questo momento e in più ecco noi sappiamo che le prossime elezioni saranno elezioni che scompongeranno il quadro politico italiano oltretutto per anche per il numero inferiore di deputati e senatori. Vero vero assolutamente perché cambia certo certo. Quindi questo è è un altro aspetto. C'è da dire che però se adesso stiamo veramente facendo della fanta politica no perché non abbiamo assolutamente certezza che questo avverrà eh stavo dicendo però è anche vero che se Draghi dovesse diventare il presidente della Repubblica eh sarebbe lui poi no a dare l'incarico a un ipotetico cioè a dare a chiamare il premier incaricato e quindi questo l'avevamo già un po' valutato anche io e te in un'altra puntata quindi chiaramente tenderebbe a scegliere probabilmente uno dei suoi che porterebbe avanti l'esecutivo come lo sta facendo lui. Certo non è Draghi però insomma la linea sarebbe quella. Allora se in questo momento ci sono già frizioni all'interno del governo se con Draghi alla presidenza del consiglio quindi già in questa situazione ci sono frizioni all'interno del governo immagina Manuela se anziché Draghi ci fosse un'altra persona e poi non è lì non è da immaginare. È chiaro che ogni giorno che passa è un giorno di meno rispetto alle future elezioni quindi insomma i partiti eh sappiamo tutti che in fine di legislatura l'unica cosa che hanno in mente è la campagna elettorale per le elezioni successive non hanno in mente il governo voglio dire hanno in mente che di di guadagnare seggi in Parlamento quindi è chiaro che lo nominerebbe Draghi ma che governo nascerebbe? Io non c'è assolutamente un governo con il 90% come ce l'ha Draghi in questo momento sarebbe assolutamente impensabile quindi secondo me nascerebbe un governo molto più debole rispetto a quello di oggi e insomma non sarebbe un non è una cosa semplice diciamo che è un puzzle difficile da mettere ok allora secondo titolo di oggi rientro a scuola e covid siamo sempre in ritardo ti chiedo questo nel senso che ovviamente a causa della dei numeri che poi cambiano da regione a regione insomma elevati di contagio oggi di fatto le scuole si sono riaperte dopo la pausa natalizia ma di fatto è come se non si fossero riaperte comunque non sappiamo fino a quando rimarranno aperte senza contare che le regole che sono state stabilite alla base sono molto molto stringenti nel senso che per esempio con due positivi in una classe si torna alla didattica a distanza quindi è chiaro che in un momento come questo è abbastanza facile avere due persone positive magari in una stessa classe ma comunque cosa ne pensi siamo sempre in ritardo c'era una cosa che potevamo prevedere prima e se sì quindi non a data già a data già arrivata no per l'apertura delle scuole e se sì insomma cosa secondo te si sarebbe potuto mettere in conto ma manuela io sono sarei perché non ci fosse nessuna restrizione per le scuole cioè è vero che nella scuola non entrano solo ragazzi giovani cioè quali sono gli scolari in una scuola ci sono anche i professori i videlli e altro personale che che appunto non rientra tra nella categoria dei giovani o giovanissimi però insomma nel nostro immaginario la scuola sono i ragazzi i ragazzi sappiamo che non hanno grossi problemi per quanto riguarda il covid anzi hanno dei problemi praticamente irrisori e invece hanno dei grossi problemi per quanto riguarda l'insegnamento cioè anni di scuola persi noi teniamo conto che la dada potrà anche essere il futuro ma di sicuro nel 2000 ecco cioè quando abbiamo chiuso tutto nel 2020 di fatto di fatto abbiamo fatto perdere un anno di scuola i nostri ragazzi ma certo assolutamente beh anche perché non è che lo dici tu e non lo dico io proprio se è stato fatto un bilancio anche di di quello che ha significato la dad per i ragazzi cioè l'educazione scolastica è stata veramente penalizzata e lo dicono gli stessi insegnanti no quindi insomma figuriamoci se continuiamo dato che io io sono una persona che sono per motivi familiari eccetera così sono molto legato alla scuola pur non avendo mai insegnato nella mia vita ho dei fratelli che hanno insegnato tutta una vita ma io non ho fatto quella carriera ma però insomma sono una persona molto legato alla scuola quindi io vorrei sempre le scuole aperte vorrei sempre le scuole piene di bambini e di ragazzi che che apprendono che imparano certo è come la penso io insomma no 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 ma certo quindi tu saresti per perché ci sono diverse visioni da parte dei governatori delle regioni c'è chi per esempio sostiene tipo toti che tenerle chiuse sia poco utile ma addirittura che con tutto diciamo il resto aperto seppur con restrizioni tenere proprio le scuole chiuse è un fallimento cioè il fatto forse si ricollega a quello che ti ho chiesto io cioè siamo sempre in ritardo cioè potevamo prevedere prima di fare qualcosa per la scuola come per esempio si è pensato di fare qualcosa prima per altri settori per altri comparti ecco c'è chi invece sostiene che non c'è sia molto meglio salvaguardare la salute ovviamente in questo periodo in cui i contagi sono elevati poi si spera incrociamo le dita che possano riabbassarsi e quindi questo possa significare un ritorno alla normalità anche da un punto di vista scolastico insomma ci sono diverse opinioni no da regione a regione certo ripeto io sarei per tenere le scuole aperte e di presenza per per tutti qualora ovviamente ci fossero dei casi di positività va bene quelle persone devono stare a casa ma come stavano a casa quando avevano un'influenza voglio dire di questo periodo qua normalmente negli anni pre covid eh molte classi erano decimate dall'influenza cioè anziché esserci 20-25 persone in classe ce n'erano 15-16 perché gli altri erano a casa per per l'influenza eh avrei fatto la stessa cosa per per il covid ovviamente se qualche ragazzo risultava positivo doveva assolutamente restare a casa ah lì si dovevano decidere i numeri dei giorni poi ovviamente con un tampone negativo ritornare a scuola eccetera eh non so io la vedo in questa maniera certo per me la scuola è una cosa prioritaria che l'ultima cosa che va che va penalizzata di tutta questa cosa è la scuola ok peraltro in altri paesi d'Europa e del mondo la situazione sembra più fluida anche da questo punto di vista mentre invece in Italia il dibattito è ancora aperto no anche se poi non c'è una linea comune su tutti i governi però eh sembra essere un po' più eh come dire per esempio in Germania sono ricominciate in presenza le elezioni anche se i contagi comunque sono sono elevati anche in altri paesi non è che solo in Italia abbiamo numeri così elevati per questo che dicevo siamo in ritardo su questo ma non non per essere necessariamente contro diciamo così il nostro sistema però insomma anche l'anno scorso ricordo dopo Natale eh si erano aperte le stesse discussioni siamo qui punto a capo un anno dopo e il problema è che poi e su questo io sono d'accordo con te eh a essere penalizzati sono i giovani che che insomma non ricevono una istruzione adeguata e questo poi sappiamo molto bene visto che noi parliamo di economia tutti i giorni come si traduce no anche in eh come dire in perdite economiche future è chiaro perché è tutto è tutto collegato senti Giancarlo senti un po' la provocazione che ti lancio magari la prendiamo per una delle prossime puntate allora a proposito delle decisioni del governo dell'obbligo vaccinale per le over 50 oppure di eh del super green pass che è entrato in vigore eh da oggi anche per salire sui mezzi pubblici eccetera c'è chi mi ha fatto notare questa cosa che però bisogna verificare però magari tu mi sai dire se è così eh che chi eh prende il reddito di cittadinanza anche se non è vaccinato può continuare a prenderlo ti risulta se no verifichiamo e poi magari ne parliamo no a me è raggiunta la notizia contraria ah ok no no infatti volevo verificare con te però quindi chi non si vaccina chi non si vaccina perché ovviamente sappiamo bene ok perché sappiamo bene che scusami se ti interrompo sappiamo bene che giusto per far capire il collegamento chi non si vaccina ovviamente non può andare a lavorare non viene licenziato ma non percepisce lo stipendio praticamente no non prende lo stipendio fin quando non si decide a farlo e invece ah quindi anche chi prende il reddito di cittadinanza viene sospeso? eh ripeto io questa la leggo l'ho letta sulla stampa sulla stampa in generale non non la stampa in giornale ma come dire nei media passa questa notizia poi eh ufficiale non non mi voglio sbilanciare che sia una notizia ufficiale però quello che eh viene appunto propagandato è che eh eh appunto per per mantenere il reddito di cittadinanza è necessario avere il 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 super green no infatti infatti leggo così però verifichiamo perché appunto peraltro le ultime notizie relative a questa questo aspetto eh sono di un insomma non sono proprio degli ultimissimi giorni quando sono entrate in vigor le nuove le nuove restrizioni quindi lo verificheremo va bene no era per verificare questa notizia perché ovviamente insomma siccome c'è un po' di confusione ancora generale su quelle che sono le nuove norme bisogna bisogna un attimino capire bene sì scusa Manuela non so se posso eh dimmi diciamo utilizzare il eh la vostra tv che ovviamente se io ne faccio parte vuol dire che ho grande stima in voi eh in in le conti tv però appunto ehm mi sembrava doveroso a proposito di di questo fatto cioè del della questione eh no in green pass e della e della questione obbligo vaccinale eh far notare una cosa a mio avviso di una gravità oltre ogni limite cioè quello che è accaduto a Luca è una cosa sì una gravità incredibile quindi ehm io mi rivolgo alle persone che eh appunto sono favorevoli al al vaccino che naturalmente hanno tutte le le cioè il dovere anzi eh di di avere le loro posizioni però attenzione che quella quella scia lì è di un pericoloso e poi eh come è stata trattata cioè assolutamente oscurata dai media è una cosa cioè io vorrei capire cosa sarebbe successo a livello contrario cioè lì eh in centro a a Luca sono stati messi dei cartelli esatto esatto stavo per chi non lo sapesse sono stati praticamente affissi questi cartelli contro i Novax però cartelli pesanti insomma che neggiano la morte non è che non pesanti di più sì 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 assolutamente assolutamente eh sì e guarda pensa che mentre tu stavi dicendo che effettivamente la notizia di cui non si è parlato sono nata apposta a vedere cercando effettivamente compaiono pochissime notizie compaiono su giornali locali che ne so Luca Agnoso eccetera ma cioè immaginati solo io ma io lo lo dico con assoluta immaginati al contrario cioè se fossero comparsi dei 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 in cui il vaccino uguale Zeclombetti ti posso dire ti posso dire in generale ancora di più Giancarlo visto che giustamente non si può inneggiare al fascismo al nazismo eccetera cioè vale per tu a indipendentemente da che ci si si rivolga al vaccino del covid in generale deve valere per tutti cioè quindi non si può far riferimento a periodi appunto nazisti fascisti e possiamo dire di dare di somministrare ovviamente ai Novax ma come a chiunque altro il gas che veniva dato agli ebrei per sterminarli insomma no 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 hai fatto benissimo a dirlo sai ho approfittato di una di un canale come voi tra parte che va in tutto il mondo ovviamente ma perché ti sei sempre dimostrata una giornalista seria altrimenti non accetterai di essere qua insomma non è che debba fare i complimenti in questo momento perché sono scontati no quindi questo è un aspetto che secondo me cioè il il fatto che che compaiano cartelli di questo genere qua poi anche va bene non entriamo però è molto difficile dato che sono stati fatti guarda l'abbiamo anche messo il cartello grazie alla mia regia guarda grazie mille questo è il cartello che è comparso a lucca ecco sono diversi e in centro con tutte le le telecamere che abbiamo nei centri delle nostre città è difficile che nessuna abbia mai inquadrato la persona che ha attaccato questi vari cartelli o le persone non so se sono uno o più di una quindi anche questo se cioè creare questo clima di odio attenzione ce lo sto dicendo soprattutto mi sto rivolgendo a coloro che ripeto giustamente dalla loro parte sono favorevole al vaccino attenzione che questa cosa proprio la china diventa pericolosissima cioè cercare di no allora no 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 certo allora c'è da dire una cosa guarda è un suggerimento che mi ha dato alberto dalla regia perché stanno partecipando è interessante questa discussione e poi chiudiamo e comunque grazie per averne parlato no giustamente alberto diceva non è che tutti quelli favorevoli al vaccino no 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 ma lo so che tu non stavi dicendo questo giancarlo lo diciamo per completezza di informazione ci mancherebbe altro e ci mancherebbe proprio perché c'è la libertà di di opinione e hanno messo questi cartelli però è grave che non se ne sia parlato e soprattutto perché si ci si rifà a un periodo come quello nazista per cui per cui se solo lo sappiamo anche a livello politico c'è solo un minimo ed è giusto che sia così attenzione c'è solo un minimo riferimento a cose fatte in quel periodo naturalmente se ne parla mai finire e si condannano no gesti qui invece non è stato neanche condannato fondamentalmente questo gesto ma anche ammesso che fosse che si sia stato fatto da una persona però non deve assolutamente comparire un cartello con il gas che veniva usato per seminare delle persone ecco tutto qui poi l'ho precisato perché è vero cioè non è che perché se no anche qui no si rischia poi di avere sempre in questo periodo le fazioni vax no vax non è così se ne discute e poi ciascuno le sue motivazioni se ne e poi al di là delle decisioni che vengono presa a livello governativo che che non dipendono da noi insomma perfetto manuela un discorso quello che hai detto che sottoscrivo in pieno allora dato che siamo in chiusura ritorniamo sull'altra magari ne parliamo la prossima volta però si sta cominciando a parlare di greenflation cioè l'inflazione dovuta alle politiche green quindi questo sarà un altro argomento che che dovrà essere affrontato sì 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 lo lo segniamo assolutamente in agenda saluto anche ci hanno scritto più più persone questo questa persona che risponde questo amico che risponde alla domanda che c'era prima se siamo in ritardo ancora una volta sulla scuola dice ciao manuela sì anche perché i contagi negli ultimi 15 giorni sono aumentati e le scuole sono chiuse dal 23 dicembre come dire che forse bisognava un attimino ragionare prima su eventuali soluzioni che poi magari non sarebbero arrivate lo stesso però non arrivare il 10 gennaio a dire che fare con la scuola quando le aule in teoria sono già aperte anzi in pratica va bene giancarlo marcotti come sempre tanti argomenti di discussione ritroverete questa puntata sul nostro sito le fonti punto tv da cui ci state seguendo e sul nostro canale youtube naturalmente anche finanza in chiaro con giancarlo vi aspetta con i suoi video quotidiani noi ci risentiamo settimana prossima grazie giancarlo grazie a te manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori grazie mille e allora noi chiudiamo questa prima parte di live adesso vi lascio in compagnia del nostro palinsesto dei nostri approfondimenti seguiteci anche sui social siamo dappertutto e poi torneremo alle 14 30 sui mercati in diretta con giacomo jacomino e i suoi ospiti grazie per averci seguiti siamo a vostra disposizione